Lei, incognito l'anno, nata a Catania nel 24 avvile del 1979, residente in Floridia, e lei, morito, Floriano, nata a nuovo del 24 agosto del 1977 e residente in Floridia, nell'intenzione di costituire un'unione civile, vi siete uniformati alle prescrizioni di legge, in seguito alle dichiarazioni lese, verificate, non insolta alcun impegnamento. Scusate. Precedo questa è la lettura dell'articolo 1,11 e 12 della legge del 20 maggio 2016, numero 66. L'articolo 1. Con la costituzione dell'unione civile, tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dalla costituzione dell'unione civile, deriva l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e alla coabitazione. Entrambi le parti sono tenute, ciascuna ed azione ama le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza in comune. A ciascuna delle parti spetta di poter attuare l'indirizzo concordato. Ora, alla presenza dei testimoni, Materazzo Marilena, nata a Ragusa il 1972, residente del Proviso, e l'Istero Rosanna, nata a Floride il 3 novembre del 64, residente del Proviso. Rifaccio le secondi domande. Lei, incognito Anna, richiare se vuole costituire l'unione civile con un'unione 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 civile presente. Sì, è vero. Lei, monito Floriana, richiare se vuole costituire l'unione civile con un'unione civile con un'unione civile con un'unione civile presente. In nome della legge, per il potere conferito, dichiaro che lei, monito Anna, e lei, monito Floriana, siete uniti civilemente. Grazie. 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 Grazie.